Com'è stata questa puntata del Duomo del Papa? Ma è stata straordinaria per quello che ci ha voluto raccontare e dire, pur parlando al clero quando ha parlato di essere contro la rassegnazione e accettare le sfide e prenderle come la testa di un bue per le corna, ci ha dato un grosso messaggio di fiducia verso il futuro, che non è così semplice. Sì, infatti il periodo non è di quelli migliori, qualcuno sentivo ieri ma non so se andare in piazza dopo Londra, voi cosa pensate invece? Vi vedo qui, avete vinto la paura? Abbiamo vinto la paura, qualcuno di noi adesso si sposta da Ardito verso Monza ma sarà difficile, ma tanti altri vanno poi invece allo stadio con i Cresimandi, ad esempio io e un po' di questi ragazzi. Bene, che cosa vi porterete di ricordo da questa giornata? Ma storicamente non ne vengono spesso di papi qua, direi una bella carica per cercare poi di affrontare la quotidianità con ancora più stimoli e voglia di fare, ce n'è bisogno e come anche lo dobbiamo fare sempre, pensando un po' anche agli ultimi come ci ha raccontato appunto prima il Santo Padre.